Riapertura e rispetto delle norme. Anche in Toscana il 18 maggio possono ripartire gran parte delle attività economiche chiuse nel marzo scorso per contenere l'epidemia di covid. Il presidente della regione Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza con date e prescrizioni di sicurezza in linea con i decreti del governo e del presidente del consiglio, riservandosi integrazioni e aggiornamenti per i prossimi giorni. Oltre alla riapertura di bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, stabilimenti balneari, mercati, servizi alla persona, sono state eliminate anche le restrizioni alla circolazione delle persone, ma sia la riapertura delle attività che gli spostamenti devono avvenire nel rispetto delle norme basilari per prevenire i rischi di contagio, come sanificazioni, il distanziamento sociale, l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici aperti al pubblico e il divieto di assembramento. È quindi possibile rivedere anche gli amici e uscire di casa senza autocertificazione, così come raggiungere le seconde case, ma in questo caso solo se in Toscana, oltre alla residenza, sia anche il medico e il pediatra di famiglia. Previsti provvedimenti severi per chi viola le prescrizioni di sicurezza, come la sospensione dell'attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e sanzioni che possono variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3.000. Il 25 maggio potranno riaprire anche palestre e piscine, il 3 giugno saranno riaperti i confini fra regioni, il 15 giugno i teatri e i cinema, sempre che la curva dell'epidemia rimanga sotto controllo perché in caso di altri focolai scatteranno immediatamente nuove restrizioni.